Eccoci qui ragazzi in un nuovo video, nel mio ultimo video fatto su Bitcoin avevo mostrato di aver aperto una posizione da 50k, questo perché mi aspettavo uno short squeeze che effettivamente è avvenuto, infatti nel momento in cui ho girato il video Bitcoin si trova a circa 44.000 dollari, nella giornata di ieri abbiamo superato abbondantemente i 48.000 dollari. Il trade l'ho chiuso con ottimi profitti, spero che anche qualcuno di voi abbia approfittato di questa occasione, in questo video quello che andremo a fare è andare a vedere le prossime posizioni che voglio aprire, quello che mi aspetto, dico subito che in questo momento Bitcoin nonostante stia ritracciando un po' continua ad essere una posizione molto bullish a mio personale parere, parlerò anche del mio piano di investimenti speculativo nelle crypto nelle prossime settimane e potenzialmente nei prossimi mesi. Ma è sempre ragazzi, se vi piacciono queste tipologie di contenuti, quello che vi chiedo di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale, in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e in più mi fa molto piacere. Allora, tra un attimo andiamo a dare un'occhiata al grafico, però ancora prima di andare sui grafici, una notizia molto interessante che è uscita fuori un paio di giorni fa è che BlackRock, che non è Chris Rock, BlackRock è il più grande asset manager al mondo in assoluto con 10 trilioni di dollari in gestione, non 10 miliardi, ripeto 10 trilioni di dollari americani, ha ufficialmente detto nella lettera scritta ai propri clienti che data la grande domanda di investimenti e di trading nel mondo delle criptovalute inizieranno ad offrire dei servizi di questo genere. Allora io tendenzialmente quando faccio degli investimenti speculativi e trading sulle crypto, che cosa faccio? Guardo i grafici, quindi faccio analisi tecnica, quindi tendenzialmente sono meno interessato alle notizie fondamentali. Questa però nel lungo periodo, a mio avviso potrebbe andare a stabilizzare, a far crescere parecchio il mondo delle cripto. Proprio perché se il gestore di asset numero uno al mondo decide di iniziare a investire, a tradare le cripto, ovviamente non è che vanno all in, ma semplicemente una piccolissima parte del loro portafoglio significa che potrebbero entrare miliardi e miliardi in questo settore. Quindi comunque sia per chiunque specula nelle cripto, questa è una notizia a tenere d'occhio. Ora un'altra notizia molto molto interessante è che in questo momento Bitcoin si trova sopra alla media mobile dei 50 giorni, dei 200 giorni, quindi sopra al moving average. Solitamente quando questo è successo in passato, Bitcoin il mese successivo ha fatto un 16% in media. Nei sei mesi successivi un più 100% e da anno in anno ha fatto un 247%. Ora, proprio perché ci troviamo in ambiente speculativo, teniamo bene a mente che i risultati passati non garantiscono ritorni futuri. Quindi non mettiamoci in testa che Bitcoin farà tra sei mesi il 100% o tra un anno il 247%. Questa è la media di quello che è successo negli anni passati. E' anche da ricordare che negli anni passati la capitalizzazione di mercato di Bitcoin era anche più piccola, quindi muovere il prezzo era più semplice. Ma io guardo personalmente questi dati semplicemente per capire potenzialmente quale potrebbe essere un trend, perché più dati abbiamo e meglio è. Preferisco essere un po' più pragmatico e dire dove potrebbe essere a livello di probabilità Bitcoin tra qualche settimana o tra qualche mese. Ma andiamo subito sul grafico e non perdiamoci più in chiacchiere. Nell'ultimo video, come dicevo, eravamo a questo livello, Bitcoin si trovava a circa 44 mila dollari, aveva appena aperto una posizione long, aspettando potenzialmente che Bitcoin rompesse la resistenza dei 45 mila e 700 dollari e si posizionasse sopra ai 46 mila dollari. Lo short squeeze è avvenuto, abbiamo toccato, come dicevamo, i 48 mila dollari e 300 circa. Ho tra l'altro chiuso il mio trade che avevo long su Bitcoin, nonostante io continui ad essere bullish in questo momento. E ora vi spiego anche il perché continuo ad essere bullish e ho chiuso la posizione. Di primo impatto sembra che non abbia senso, ma se sei bullish e sei entrato a 44k, perché chiudi la posizione? Bene, la posizione la chiudo perché ovviamente il prezzo non va su con una candela unica a 100k, ma mi aspettavo effettivamente una correzione, in questo momento correzione che sta avvenendo. In questo uptrend un paio di supporti sono molto importanti. C'è innanzitutto il supporto dei 46 mila, 46 mila e 200, 300 giù di lì, e anche e soprattutto il supporto dei 45 mila e mezzo, 45 mila e 700 dollari. Però effettivamente per proseguire un sano uptrend questi livelli dovrebbero reggere, perché altrimenti dovrei rivalutare tutta la strategia. E nel mio ultimo video ho mostrato che nel grafico giornaliero l'EMA Ribbon faceva già da supporto, ma nel settimanale eravamo lì lì, non stava ancora facendo da supporto. Ad oggi invece, anche nel grafico settimanale, abbiamo sfondato la resistenza dell'EMA Ribbon, quindi ci sono delle buone possibilità, delle buone probabilità, che anche se ci dovesse essere una correzione un po' più forte, potrebbe supportare il prezzo di Bitcoin e di conseguenza poi riprendere la salita. Ora, come dicevo, io in questo momento sono bullish, questo è il motivo per cui sto guardando per delle posizioni dei trade a leva long e non degli short. I due principali livelli che sto guardando per aprire delle posizioni long sono il primo 46 mila e mezzo. Dovesse arrivare a 46 mila dollari e mezzo, aprirei una prima posizione. L'altro livello che sto guardando, nel quale andrei ad aprire un'altra posizione, è a 45 mila e 700 dollari. Ovviamente, come sempre, lo ricordo benissimo ragazzi, stop loss subito al di sotto, proprio perché non vogliamo farci incastrare dalla grande volatilità. Ricordo anche, tra l'altro, che io faccio trading a leva sulla piattaforma di Bybit, di cui trovate il link sotto in descrizione e trovate anche il link del video tutorial completo che ho fatto personalmente su Bybit. La correzione, come dicevo, me l'aspetto, ma se questi supporti nei quali voglio andare ad aprire delle posizioni long non dovessero reggere, a quel punto andrei a riadattare la mia strategia, cercherei di aprire delle posizioni long sopra al supporto del IMA Ribbon. Se invece non dovessimo ritracciare fino a questi livelli, aspetterei prima di aprire una posizione long solamente nel momento in cui andassimo a superare i 48 mila dollari e 5, 48 mila dollari e 6, probabilmente anche 48 8, 48 e 9. Perché nel momento in cui dovessimo arrivare, mio personale parere, ai 48 7, 48 8, il prossimo step sarebbe ufficialmente i 51 mila dollari. Questo perché? Perché a questo livello c'è una forte resistenza che ha fatto anche da resistenza diverse volte ed inoltre se andiamo a tracciare il ritracciamento Fibonacci, possiamo notare che il livello 0,5 del Fibonacci combacia proprio con questa resistenza. Quindi nel momento in cui dovessero entrare le mie posizioni long, nel momento in cui Bitcoin dovesse prendere a salire, poco prima dei 51 mila dollari andrei a liquidare il mio trade. E qui però mi voglio esporre come spesso capita. Quello che mi aspetto nel momento in cui dovessimo superare i 51, 52 mila dollari e questo livello dovesse fare da supporto, il mio price target andrebbe ufficialmente sopra i 60 mila dollari, più precisamente intorno ai 62, 63 mila dollari. Se questa ipotesi dovesse verificarsi, a quel punto quello che succederebbe come succede sempre praticamente con Bitcoin è che tutti i profitti fatti dai trader e dagli holder di Bitcoin iniziano a spalmarsi sulle altcoin. Quindi a quel punto tutte le varie altcoin crescono. Successivamente che cosa succede? Che i profitti fatti sulle altcoin cominciano ad essere spalmati sulle memecoin. Quindi signori questo è un discorso estremamente speculativo, ma non sorprendetevi se nel momento in cui Bitcoin effettivamente dovesse arrivare a superare i 60 mila dollari nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, le altcoin e le memecoin dovessero impennarsi. Questo è il motivo per cui nelle settimane precedenti ho acquistato alcune altcoin, ci avevo anche fatto un video un 2-3 settimane fa circa, avevamo parlato di Vtrade Network, avevo mostrato di averla appena comprata quando era intorno ai 0,45 centesimi di dollaro, in questo momento è sopra di un 40-50% o qualcosa del genere e avevo mostrato di aver comprato anche Chilitz. Se non ricordo male intorno ai 19 centesimi, ad oggi è a un più 60-70% giù di lì. Ecco questa mia aspettativa, il fatto che Bitcoin potrebbe superare i 60 mila dollari nei prossimi mesi, mi induce a tenere queste altcoin e altre che ho comprato ne parlerò nei prossimi video, perché ripeto il gioco speculativo delle cripto tendenzialmente come funziona. Profitti fatti su Bitcoin vengono successivamente spalmati sull'altcoin e dopo sull'MM coin, questo è il motivo per cui nelle settimane, nei giorni precedenti ho comprato delle altcoin. Arrivati a questo punto ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti come sono andati i vostri trade su Bitcoin, se avete fatto qualche trade oppure no, se avete comprato qualche altcoin. Io come ragazzo spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, anche per oggi è tutto, noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video. Grazie a tutti.